Certo, uno degli incontri più straordinari, credo, della tua vita è stato con Alberto Casiraghi, Pulcino Elefante, editore che... Beh, io sono l'elefante e lui è il Pulcino, è chiaro. Però, insieme, lui ha stampato qualcosa come 900 tuoi libretti. Sì. Che è una cosa straordinaria, Casiraghi. Beh, sono degli incontri speciali, fatti di mille e mille telefonate e ogni settimana, da tanti anni, con Alda, facciamo nascere un Pulcino. Come diceva un nostro amico... No, che sorta di gallina. ...un panettiere degli editori, ogni giorno faccio un libricino e una settimana lo dedico a Alda. E sono appunto delle poesie, riflessioni, aforismi, giochi, invettive. Qualsiasi cosa lei ha voglia di dire, io lo stampo. Mi leggi qualcuno di queste poesie, di questi aforismi? Quello che ti va? È dolce, fermare gli sguardi nel volto puro di un adolescente che somiglia a un tuo vecchio amore. Né tu né lui saprete mai nulla del gioco degli spazi sognatori e dello scuro teatro del corpo. Questa qua per Don Marco, che è un prete che usa i burattini per spiegare un po' la liturgia. È nato un bambino tra noi, un dito di silenzio amoroso che indica la pace. Dormono gli amanti in attesa di Dio che li sveglierà stanotte col grido dei re magi. Ecco un altro punto che a me è tanto caro, per esempio la magia. La magia che molti condannano, a cui gli uomini non credono. E invece tutto nell'uomo è magia. C'è proprio un punto di magia nell'uomo che fa miracoli secondo me. Se tu dovessi definire Alda Merini, come la definire? Ma se io dovessi dire, non so, è una grande montagna su un grande precipizio anche. Se dovessi, non so come, è Mozart la Merini. Diciamo che guardando la casa c'è una montagna di spazzatura. Come Alda, scusami. C'è una montagna di spazzatura. Dai, qui c'è tanta. C'è Mozart, ma però ha anche Salieri dentro di sé. Certo, il dolore è una delle cose che... Ma molti ci speculano sul dolore oggi, compreso gli analisti. Aspettano solo. Se non hanno un dolore a portata di mano, lo procurano. Io ho provato ad lasciare delle relazioni amorose e sono state subito interrotte o dai vicini o dall'analista che ha sentito dire che l'amore era un pericolo. Ma certo che può essere un pericolo. Può essere anche la morte, il dolore. Però non ci sarebbe Leopardi, non ci sarebbe Dante. Quando mai un poeta o una persona umana, una persona non rischia di morire per la vita. Questo è importante, la vita è un rischio. E lo stesso D'Annunzio, che non era lo stinco di un santo, diceva vivere pericolosamente. Ok?